In fondazione la presentazione del bilancio, un bilancio insieme al Presidente Matteo Mellei che è positivo, una fondazione in salute, una banca in salute per un territorio che però non è tanto in salute. Ci racconta brevemente quali sono i numeri principali del bilancio? Il dato più importante è che abbiamo un patrimonio importante, 238 milioni di euro è il valore a mercato di questo patrimonio, abbiamo un utile di 5 milioni e 200 mila euro, abbiamo la possibilità di incrementare il patrimonio ancora di un milione di riserve, andremo ad erogare 4 milioni e 6, quindi cresciamo anche a livello erogativo. In un anno difficile, come dicevo, per le fondazioni, per tutti coloro i quali hanno operato sui mercati, noi siamo riusciti a difenderci grazie a questa diversificazione perché è vero che abbiamo la partecipazione nella banca, tra l'altro, come sappiamo, una banca sana e robusta, ma abbiamo anche altri investimenti in altri settori che quindi riescono a compensare eventuali difficoltà. Quindi davvero un bilancio in salute da questo punto di vista. Un bilancio che presenta anche un interesse finale superiore all'altro per cento, quindi che oggi non è facile da ottenere grazie agli investimenti di fondazione. Investimenti che poi vengono ridistribuiti sul territorio in attività classiche, quelle sociale, l'housing, tutte attività che Fondazione ha lanciato negli ultimi anni, specialmente con un'intensità veramente notevole. Una mancanza forse riguarda la possibilità di un canale preferenziale riservato dal pubblico, che in altri ambiti invece è partner consolidato, riguardo agli investimenti. Sì, questo è un fatto che ormai si ripete. Mentre sotto il profilo dell'attività tradizionale, cioè delle erogazioni, gli interventi nel settore sociale, culturale, formativo, vedono una grande sinergia, oltre che con il terzo settore, anche con i soggetti pubblici. Quindi collaboriamo efficacemente con loro. Nel campo degli investimenti, dove invece la Fondazione mette a disposizione risorse con una ricaduta tangibile, il campo classico è quello dell'edilizia sociale, oppure sociosanitaria, i vari progetti per i ragazzi autistici, le varie iniziative che hanno anche una finalità economica, perché poi possono mettere in moto risorse aggiuntive, aiutare le imprese. Ecco, in questo ambito riscontriamo da tempo una grandissima difficoltà. Noi vorremmo essere considerati partner prioritari, cioè siamo privati, ma non siamo ovviamente il privato interessato al profitto. Quindi quando la Fondazione investe risorse nell'edilizia sociale, non lo fa con la logica dell'immobiliarista. Ecco, lo fa con una prospettiva, tra l'altro, reddituale molto modesta, ma lo fa per fare case, per persone in difficoltà, per giovani coppie, eccetera. Quindi ci aspetteremmo un canale preferenziale. Tra parentesi, oltre alle risorse della nostra Fondazione, questi progetti mobilitano risorse aggiuntive. Ci sono i fondi della Cassa Depositi e Prestiti, delle altre fondazioni italiane, di altri investitori. In un territorio fragile e spesso bisognoso, ecco, che chiede che investimenti arrivino, ecco, i progetti della Fondazione, promossi dalla Fondazione, hanno anche questa ulteriore forma e valenza. Quindi sarebbe legittimo aspettarci un canale preferenziale, una facilitazione. Devo dire che non sta avvenendo. Siamo in vista delle elezioni amministrative e i tempi sono ristretti. Il piano di fondazione riguarda il 2016-2019, nel 2019 verranno rinnovati completamente gli organi di fondazione. Quindi, per quello che rimane, visto che la nuova giunta comunale verrà ristituita a fine giugno, poi i tempi saranno molto stretti per riuscire a fare in modo che nell'anno successivo si possa realizzare qualcosa e magari anche con un cambio di marcia riguardo a quello che si diceva prima. È evidente che con questo poco tempo che rimane si possano pensare iniziative di un respiro più contenuto. Però sono progetti realizzabili e soprattutto sono modi per impedire che quelle risorse vadano altrove. Io credo davvero che la nuova amministrazione, almeno noi sarà questo uno dei temi che porremo, vedere se riusciamo ad accelerare i progetti su cui la fondazione ha raccolto risorse per realizzarli entro la fine del 2019. Occorre uno sforzo, uno sforzo naturalmente anche da parte nostra, uno sforzo da parte delle procedure, che sono complesse, ma come altrove sta avvenendo penso che si possa riuscire a fare qualcosa anche qui. Un'ultima cosa, ha accennato prima durante la conferenza stampa al villaggio del Palio. Il Palio del Golfo è da decenni che si cerca di strutturarlo, di renderlo appetibile il più possibile. Lei parlava, giustamente dal nostro punto di vista, di una struttura permanente, il villaggio del Golfo, che desse visibilità tutto l'anno e non solo durante l'evento del Palio e che rendesse il Palio qualcosa di stabile, di visibile tutto l'anno. Ma questo è un classico esempio di un progetto che già qualche anno fa avevamo pensato di realizzare. Poi i conflitti di competenze tra i varienti, cose che ahimè sappiamo hanno contraddistinto questo passato, ha impedito che venisse fatto. Questa è una cosa modesta, non richiede risorse straordinarie, potrebbe essere un primo tassello del miglioramento del fronte a mare. Io non parlo del waterfront, parlo tradizionalmente e più modestamente della passeggiata Morin. Mi accontenterei di abbellirla sulla passeggiata Morin, che è il nostro obiettivo da visita. Il villaggio del Palio è il classico oggetto che può attirare il turista, può valorizzare davvero il lavoro delle borgate, che non è soltanto la gara remiera o la sfilata. C'è tutta una tradizione, una serie di mantenimento di valori tradizionali che devono essere evidenziati. Con un villaggio, con una struttura permanente, ovviamente con un decoro, ecco, con tutte cose che si possono fare in tempi rapidi, potrebbe essere uno dei primi obiettivi da offrire alla 2018. Grazie Presidente. Grazie. Perfetto.